E' morto l'autore austriaco Maximilian Schell, premio Oscar come migliore attore nel 1962 per il film Vincitore e Vinti e deceduto a Innsbruck dopo un'improvvisa malattia, aveva 83 anni. Tra le interpretazioni più note, i Giovani Leoni, l'Italodessa, Deep Impact, Schell è stato anche registro oltre ad avere lavorato per televisione e teatro.